salve a tutti benvenuti nel canale di passione uncinetto oggi realizzeremo insieme questa farfallina decorativa in cordino guardate che rigida con il cappietto che può essere utilizzato come ciondolino può essere fatto più piccolo ed applicare un portachiavi e quindi utilizzarla comunque per vari scopi per bomboniera per segnaposto applicata quindi un sacchettino oppure con il cappietto più grande per applicarlo ai manici delle borse o degli zainetti quindi velocissima da fare veramente in due giri e ne potete fare ne potete realizzare in pochissimo tempo tantissime prima di presentarvi i materiali e metterci al lavoro vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e cliccare la campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video in più vi volevo invitare a seguirmi sulle mie pagine facebook instagram e tik tok e lì cercherò con delle storie dei post e di anticipare ciò che poi porterò qui sul canale e in più faremo dei sondaggi per decidere insieme i prossimi progetti se il video vi piace lasciatemi un pollice all'insù e ora andiamo alla presentazione dei materiali per questo progetto utilizzeremo questo cordino color ciclamino abbinato al cordino che utilizzato infatti per la prima farfallina color crema lo lavorerò con uncinetto 3 e mezzo e avrò bisogno un paio di forbici prendiamo il cordino e facciamo un cerchio magico entriamo con l'uncinetto facciamo una catenella e nel cerchio lavoriamo 6 maglie basse quindi 1 2 3 4 5 e 6 tiriamo la codina del cerchio il più possibile e rientriamo nell'ultimo punto voltiamo il lavoro e lavoriamo 6 catenelle 1 2 3 4 5 6 facciamo una maglia alta tripla quindi tre volte il filo sull'uncinetto entriamo nello stesso punto e c'è la lavoriamo e ci lavoriamo a 2 a 2 questa maglia alta tripla ora una maglia alta doppia due volte il filo sull'uncinetto entriamo nello stesso punto e ce la lavoriamo seguita da un'altra maglia alta doppia sempre nello stesso punto 1 2 e 3 filo sull'uncinetto una sola volta e facciamo una maglia alta sempre nello stesso punto quindi abbiamo realizzato 6 catenelle maia una maglia alta dopo tripla scusate 2 maglie alte doppie una maglia alta 2 catenelle entriamo nel punto successivo e ci chiudiamo con maglia bassissima 2 catenelle entriamo nel punto seguente e realizziamo una maglia alta due volte il filo sull'uncinetto nello stesso punto realizziamo una maglia alta doppia 3 catenelle 1 2 3 e ci chiudiamo nello stesso punto con maglia bassissima entriamo nel punto seguente sempre con maglia bassissima e realizziamo 3 catenelle maglia alta doppia e nello stesso punto e maglia alta quindi ora ripeteremo al contrario quello che abbiamo fatto nella prima parte 2 catenelle entriamo nel punto successivo e facciamo una maglia bassissima 2 catenelle entriamo nel nell'ultimo punto e lavoriamo una maglia alta 2 maglie alte doppie quindi 1 e 2 una maglia alta tripla sempre nello stesso punto e 6 catenelle 1 2 3 4 5 e 6 ci chiudiamo sempre nella stessa maglia con maglia bassissima quindi prendiamo il filo e lo facciamo passare direttamente nella solina e abbiamo terminato la lavorazione della farfalla stringiamo ancora la codina che questa iniziale la stringiamo sempre più il cappietto lo facciamo passare in tutta la farfalla e stringiamo così bello stretto ora se la volete fare monocolore non tagliate il filo e iniziate ad attorcigliare questo stesso filo e poi riprenderemo la lavorazione per fare le catenelle io ora la farò inserirò quello il color crema quindi devo tagliare il filo in questo caso faccio proprio un nodino stretto stretto faccio proprio un nodino stretto stretto fra la codina iniziale e il filo finale dopo di che taglio il filo da tutte e due le parti prendo l'accendino brucio l'estremità ecco come vedete poi si appiccita con il fuoco ok quindi ho fissato i fili dopo di che prendo il cordino color crema prendo l'uncinetto entro al centro e fisso il mio cordino prima ancora di cominciare a passarlo quindi faccio lo inserisco all'interno e faccio una catenella proprio per inserirlo dopo di che lo faccio passare qui al centro guardate e stringo forte così e do qualche giro questo vi potete regolare voi quanti giri fare per fare la parte interna della farfalla io in questo caso ne ho fatti o tre o quattro prendo entro qui al di sotto delle due asoline mi prendo il filo quindi faccio passare il filo di lavorazione e inizio a fare le mie catenelle per fare il cappietto quindi se volete fare un cappietto piccolo quindi da adattare a un portachiavi potete fare anche 7 8 catenelle questo penso questo era un cordino più fine ne ho fatte 15 però era più fine ora per farvi vedere per l'applicazione alle borse faremo 20 catenelle quindi 1 2 3 fatte le nostre 20 catenelle rientro qua sempre al centro dove dopo ho fatto la partenza e faccio una maglia bassissima quindi faccio passare il filo direttamente nella solina faccio passare il cappietto finale in tutta la farfalla tengo il cappietto un po più tirante sistemo nel frattempo la parte interna quindi il cordino e stringo così possiamo tagliare il filo fare sempre un nodino e al solito poi con l'accendino nasconderemo le codine ok 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 guardate la nostra farfallina è terminata qui se vogliamo possiamo applicare anche una perlina con un goccino di colla a caldo e applicare una perlina qui nella parte sopra ho applicato una mezza perlina quelle là che si appiccicano se non sbaglio li ho comprati in un negozio di tutto casa c'erano queste perline di vari colori infatti ne ho approfittato del fatto di mettergene una anche a questa in questo caso io l'ho messa gialla e ora vi voglio far vedere in ultimo come applicarlo in un manico quindi prendo un manico di borsa qualsiasi solo per farvi un po vedere facciamo passare così la farfalla quindi su questo vi potete regolare per fare le catenelle del manico la facciamo passare all'interno così non vi preoccupate che non c'è il problema che si sfili o che si rompa così così guardate la risistemate e così vi viene inserita direttamente al vostro zainetto o alla vostra borsa guardate che carina questa invece la potete utilizzare con il cappietto più piccolo per portachiavi comunque oppure per ciondolino potete in alternativa inserire nella parte dietro una calamita e fare queste farfalline per metterle nel frigo nelle cappe quindi per attaccarle e anche questo è un'idea per utilizzarla come sacchettino bomboniera segnaposto proprio per attaccarla con le calamite quindi io diciamo che qualche idea ve l'ho data spero che il video vi sia piaciuto se così lasciate un mi piace al video e condividetelo se avete delle domande da fare commentate qui sotto o sulla mia pagina facebook o instagram passione uncinetto io sarò lieta di rispondervi vi ringrazio come sempre di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video grazie